bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono kluder e oggi ragazzi stiamo parlando di fortnite con questo video speciale specialissimo ragazzi perché ho un gameplay ragazzi di una roba che potrebbe interessare molti giocatori come voi e come me di fortnite sappiamo ragazzi che da ieri se non ricordo male o addirittura da questa mattina nelle notizie di fortnite è apparsa una roba scrank eccolo lì ragazzi la prima delle 5 nuove armi che arriveranno con i prossimi aggiornamenti il fucile pesante cosa ci dicono di questo fucile pesante che è un fucile che dicono ha una portata più grande più ampia rispetto agli altri fucili dicono si vede chiaramente che è un'arma leggendaria ma secondo me non lo so non lo so ragazzi questo è un scilozzo sembrerebbe un fucile a pompa perché ha i bossoli attaccati come vedete vicino all'impugnatura e ragazzi ha il mirino non male fucile a pompa con il mirino su fortnite a parte il pesante tattico non ne abbiamo però voi mi direte xuder ma che nel titolo c'era scritto svelato gameplay del fucile pesante e già e già amico mio guardalo qua guarda che cosa ho pescato in giro scatrampiano piano 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 abbiamo qualche mangiata di secondi in realtà un minuto e 27 dove nella rete lo xuder ha pescacciato quello che potrebbe essere e quello che sembra essere il vero gameplay del nuovo fucile che sta per arrivare probabilmente domani ragazzi perché voi lo sapete rilasciano degli aggiornamenti quelli della epic games ogni giovedì o almeno così sembra giovedì scorso ci hanno dato gli esplosivi con la patch 3.3 a doma a cosa domani potrebbe arrivare questa nuova arma anche se in realtà non ci hanno ancora detto niente però mi sono così a guaccia scare prima di andare a vedere il gameplay ragazzi dai un super poi il coso stai qua un super pollicione se vi sta piacendo il video mi raccomando iscrivetevi al canale e venite a giocare con me a fortnite nelle mie live pomeridiane allora guardalo lì che l'ha già trovato guardalo lì che l'ha già trovato heavy shotgun come potete vedere fucile pesante che è quello che viene effettivamente mostrato nel banner che esce in questo momento non è leggendario è una arma epica guardate che figata il mirino rosso ragazzi bellissimo bellissimo vediamo lui come lo decide di usare c'ha già 57 colpi dentro non sappiamo bene come sembra veramente figo fa no con la testa perché giustamente nota cosa c'è davanti non ci ha fatto vedere quanto toglie ma guardate che meraviglia guardate che meraviglia lo va a riprendere ragazzi via così lascia giù l'altro fucile non si sa bene perché voglia andare fuori safe ma facci vedere questo fucile wow rpg leggendario ragazzi è pronto è pronto è pronto ad uscire è pronto ad uscire sono dentro in otto sono dentro in otto vediamo cosa succede attenzione non si capisce lo rilascia giù ancora ce lo vuole far gustare proprio ragazzi è bellissimo è bellissimo da vedere guardate che meraviglia dai parti zio parti zio siamo troppo da swat così troppo da swat va a picconare via così via così la picconata vediamo se si trova qualcuno di fronte attenzione attenzione c'ha un tipo lì davanti c'ha un tipo lì davanti ha già impugnato il fucile ragazzi il primo colpo lo manca lo prende con uno gli ha tolto credo 52 e con due shot ragazzi lo va a killare da una distanza abbastanza interessante ragazzi meraviglioso meraviglioso vediamo se riusciamo a rivedere la sessione giusto dove lo va a killare guardalo lì 52 secchi non l'ha neanche preso in testa e boom giù con l'altro ragazzi che meraviglia che meraviglia beh ragazzi questo era il gameplay in esclusiva del nuovo fucile pesante tattico che arriverà su fortnite mi raccomando ragazzi condividete questo video con i vostri amici mettete un bel like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live ciao 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 ciao